E quando tu metti una persona che era al bancone, tu non devi trattarla semplicemente da dipendente, la devi coinvolgere. Io una cosa che dico spesso è che un vero leader non crea follower, crea nuovi leader. Io vorrei che da qui a due anni, chi viene da dirti non sa manco chi è Mario Farulla, ma va da dirti. Eccoci qua, bentornati ragazzi, in un nuovo episodio di questo fantastico podcast. E che dire, come ogni volta inizio puntata, ricordatevi di seguire su tutte le piattaforme, che sia YouTube, che sia TikTok, che sia Instagram, che sia anche Facebook, perché in questo modo potete aiutare la crescita di questo podcast, la diffusione e come sempre vi ringrazio già per quello che fate, perché i numeri crescono sempre e quindi mi rendite sempre più orgoglioso. E ringrazio, come adesso ho iniziato a fare in ogni puntata, ringrazio gli ospiti, perché io il contenuto non lo porto, io sono tra virgolette solo un host, che mi servo delle storie dei nostri ospiti. Quindi oggi abbiamo qua, è ritornato, il nostro Mario, grazie mille. Grazie a te, Garbio. E grazie a te di essere tornato, grazie a te per avermi portato la tua storia l'altra volta e di essere ritornato oggi. Sempre un piacere. Grazie mille. Allora, iniziamo con l'episodio. Intanto volevo iniziare ringraziandoti per l'altra volta, perché sono venuti fuori dei contenuti super interessanti e come avrai visto anche tu sui social sono andati fortissimo. Molto bene, molto meglio. Molto bene e per questo ti ringrazio, si è creata una bella intesa tra di noi. E detto questo, prima cosa ti trovo, voglio farti un quadro di quello che ho visto io da quando ci siamo conosciuti ad oggi, che ci siamo rimasti in contatto, non strettissimo, però ogni tanto ci scambiamo qualche messaggio. Ci siamo risentiti, mi hai detto che ti sarebbe piaciuto ritornare qua a fare una chiacchierata come io ti avevo già invitato, perché avevi qualcosa da dire. Intanto volevo farti questo mio quadro di come ti ho visto passare in quest'anno. A parte il fatto che apprezzo tanto quando dici alcune cose, come ti seguo sui social, come ti avevo anche già raccontato nel primo episodio, mi piaceva come decidi di testare e vedere come risponde il mondo a certe uscite. Ho apprezzato un sacco il fatto che appena incontri qualcuno tutti ti fanno l'appunto su come adesso è cambiato il tuo corpo, come sei cambiato tu. E tu dici, sì, quelli che mi dicono questo adesso sono gli stessi strozzi che mi dicevano che eri ingrassato prima. Sì, è vero, è vero. Quindi vabbè, è un biscottino ma lo prendi come tale, insomma, grazie, è bene. Però, come ho scritto anche dopo, invece di chiedirmi come sto, perché poi lo specchio ce l'ho pure io, lo vedo, insomma, sicuramente fa sempre piacere, è innegabile, ma non è la moneta per comprare una persona, né dovrebbe essere quella per farmi male, secondo me. Ok. E questa è una tematica che a me è molto stretta, non a caso la drink list di DT è dedicata al body shaming. Ah, ok. Quindi è proprio una cosa... Adesso mi racconti tutto. Sì, certo. E detto questo, l'impressione che ho avuto io, molto piacevole tra l'altro, perché veramente, non vorrei dire ti ho invidiato, però veramente ti ho apprezzato perché nel tempo che è passato, io prima ti conoscevo sui social, ti vedevo in un modo, in questo ultimo anno sei cambiato molto. Sì. E mi è sembrato proprio come su... Sai la scena di Una settimana da Dio quando Ginkari si spoglia? Sì, sì. Mi hai dato proprio l'impressione di esserti tolto una pellicola che magari non ti apparteneva tanto e adesso... Tre guai, i brividi. E adesso ti sei sentito libero e hai avuto la possibilità di essere te stesso ed esprimerti a modo tuo. È vero. Diciamo che una parte da monello di me c'è sempre stata nel mio comunicare, il mio essere e tutto quanto. Da quando finalmente abbiamo un nostro posto, io con i miei soci Gigi e Carola, posso dire che finalmente non sono io a dover assomigliare al posto dove lavoro, ma è il posto dove lavoro che è stato creato per assomigliare a me e al nostro collettivo. Quindi siamo andati all in, perché sti cazzi, cioè questo è il discorso, ho quasi 42 anni e me ne sono rimasti solo 58 per divertirmi. Quindi ogni giorno è un giorno da vivere, non mai guardarsi indietro, fare sempre quello che ti senti di fare e soprattutto fottersene del giudizio degli altri, sempre. Ok, sì, questo è una cosa molto interessante. Mi sono anche messo una maglietta più in stile nostro per sentirmi come se fossi venuto a trovarti, cosa che non ho ancora fatto e sono in terribile ritardo, e mi sono trovato spesso a parlare di te anche con altri ospiti, non so se ci hai fatto caso. Sì, ho visto. Ho apprezzato il fatto di, io sono una persona, io apprezzo tanto i drink super ricercati, apprezzo tanto i locali che fanno una super ricerca che oggi è uscito proprio un episodio in cui Filippo Sisti mi racconta un suo drink e mi racconta che alcune lavorazioni su questo drink che mi ha portato hanno bisogno di 18-28 giorni di preparazione e a me quelle cose piacciono veramente tanto, le apprezzo e fruisco, però non fanno parte di me, tra virgolette. Certo. E mi sono trovato a parlare con, del fatto quando tu mi raccontavi della banana, del Hustle, della Cemental, e ho intervistato in quest'anno tantissime persone, e ho avuto qua Diego Ferrari che mi ha raccontato della sua passione per il pairing insieme al drink, che lui veramente la studia, veramente gli piace, veramente è super interessata e ne sa veramente tanto di questa parte qua. E mi sono trovato a parlare con Rossella di Mixer, in cui lei mi chiedeva secondo me i nuovi trend, secondo lei che cosa va, cosa potrebbe andare, il futuro? E io dico, sì, questa cosa qua che fa, mi ha fatto una drink list Adrian del Dialogue di Brescia, bellissima, veramente pazzesca, in cui lui ha lavorato le ciliegie, mi ha detto i tempi, tutto quanto, dico, questa roba qua vince sicuramente, perché si vede quanto è bravo, si vede come è empatico e come veramente fa le cose, non per far vedere quanto lui è bravo, la ricerca che fa, ma per portare un'esperienza, un'esperienza al cliente, e lì con Rossella dico, però quanto è vincente questa cosa di Mario? Cioè quanto è vincente la banana? Capito? Quanto è vincente la simmental? Perché nella mia testa, io sono sempre, in tutto quello che ho fatto, l'ho sempre fatto in modo estremo, ok? È una parola che mi è molto affine. E quindi dico, guarda invece com'è vincente, avendo le possibilità di poter fare anche questo, però guarda com'è vincente invece la banana, guarda com'è vincente della simba, più che l'idea, più che la banana, io ti dico che è un discorso molto complesso e ha più di una chiave di lettura, ognuno logicamente sceglie la sua, la mia idea è che il drink deve essere semplice per il cliente e non per il bartender da fare, questo non vuol dire che uno debba fare lavorazioni complicate, come vedi da noi è molto semplice, e ti faccio un paragone con quello che è il mondo della palestra. Tu, quando fai bodybuilding, il peso che tu alzi conta relativamente, conta come lo esegui. Cioè, perché il fine non è alzare tanto peso se non fai il powerlifter, l'importante è che funzioni. Quindi, che tu possa fare un drink con un ingrediente che ci metti sei settimane, o con un ingrediente che è due ingredienti, un cocktail bid, quello che conta è il gusto, cioè quello che conta è che te lo richiedano. Non solo questo, noi vendiamo ospitalità, il drink è solamente una scusa. Quello che facciamo da dirti, noi vendiamo un mood, poi non voglio dire che si beva male, e spero di no, insomma. Cerchiamo di fare le cose fatte bene, ma anche in maniera smart, pensando che siamo comunque un dive bar, un high volume, e se ci mettessimo a lavorare, a fare determinate lavorazioni, non riusciremmo a garantire la costanza nel servizio che facciamo. Per cui magari in alcuni giorni bevi bene, in altri giorni bevi male. Magari succede comunque in tutti i bar, anche quelli che fanno cose semplici, ma più ti complichi, più è difficile dare un servizio. Ad esempio il giorno dei Bar Awards, abbiamo fatto record di incassi, cioè mai vista così tanta gente al locale, avremmo avuto, senza dire stupidaggini, 300-400 persone a giro, durante tutta la serata. Noi a un certo punto abbiamo deciso, sai che c'è, basta, solo birra in plastica e gin tonic in plastica. Perché? Ma non perché sia un bar scasso, perché se hai una mole così di lavoro, tu devi far sì che nessuno vada via a bocca asciutta, non che abbia l'esperienza della vita, perché devi interpretare la situazione e capire che in quel contesto lì, tu, è festa. Alla gente non gli interessa di bere il Sazerac, o se viene in una festa pensando di bere il Sazerac, probabilmente la persona sbagliata potrebbe, no, la persona richiesta sbagliata potrebbe essere quella. Quindi noi cerchiamo di vendere un mood, cerchiamo di vendere una situazione, che poi è la, credo, l'ecipiente, la radice proprio, del motivo per cui si va in un locale. Io vado per la musica, per incontrare gente, per rimorchiare, per stare con un amico, per sorseggiare una cosa e avere la testa leggera. Cioè il cocktail, secondo me, non è un'esperienza, non è una meditazione. Un distillato, un vino, è una meditazione. Il drink è un consumo veloce, è una cosa che deve durare non più di 7-8 minuti. Se dura di più, probabilmente stai bevendo qualcosa di merda, perché o non ti piace o comunque dopo 10 minuti un drink è anacquato, va schifo. Quindi è una bevuta leggera, è un momento in cui tu devi completamente svuotare la tua testa, non parlare di lavoro e semplicemente goderti il momento. Questa è una cosa importante. Tornando al... ti ho lasciato parlare, dico, la serata che dopo i Barawol si ha detto che hai avuto tutta questa... questa affluenza che non ti dava la possibilità di far vivere l'esperienza al cliente, però bisogna avere anche la mentalità di riconoscerla questa cosa. Magari questo è dato anche ovviamente dall'esperienza che tu e i tuoi soci avete, di capire la serata e capire che in quella serata lì non potevi... Io stavo... gli spillavo birre. Io spillavo birre che non erano vendute, ma ne facevo di 10 in 10, perché non ti uscivano. È tipo l'autogrill che comincia a fare caffè, eh. Tanto poi qualcuno li prende. Uguale il collega mio per i gin tonic. Quello. Cioè l'esperienza gliel'abbiamo data. Per assurdo gliel'abbiamo dato più esperienza così che facendo il cocktail bar raffinato, perché l'esperienza vera da dirti è il mood, che sei dentro, ti muovi, balli un pochino, incontri gente, ripeto, sei un po' allegro, ti fai prendere dall'atmosfera. Il drink secondo me non è un'esperienza. Il drink è un qualcosa che ti fa compagnia per... Il drink è praticamente una sveltina. È una sveltina, non è l'amore della vita. È semplicemente una sveltina. Mi dà l'impressione di dirti di essere un posto dove non c'è neanche un muro tra chi sta lavorando e chi è... Zero. È un bar trattoria. Cioè vieni, stai tranquillo, si ghiacchierà. Poi ripeto, non siamo un posto glamour, non facciamo servizio al tavolo, facciamo semplicemente sbarazzo. Se ti devo mandare a fare in culo e paniera a buon'aria ti ci mando a fare in culo. Se fai una richiesta ti prendo in giro. O altrettanto, al contrario, se a me mi cade un bicchiere e lo rompo e tutte le persone dentro mi prendono quel culo, io mi metto a ridere con loro perché succede. È questo quello che secondo me dovrebbe succedere dentro un bar. Perché si crea veramente una connessione, è come stare in una... Oddio, per dire una parola bruttissima, in una famiglia. Mamma mia, stanno venendo i brividi. Tutte volte che ho sentito queste cose erano contesti che non erano proprio familiari. Ok. L'hai tirato fuori tu, te l'avrei chiesto dopo. Dimmi un po' dei bar a wals. Che premi avete vinto? Allora, ci hanno premiato come bar rivelazione che hanno. Ecco, ho fatto un disastro. Allora, penso che lo rifacciamo. Sì, sì. Ok, te lo richiedo. Che premio avete vinto? Abbiamo vinto come bar rivelazione dell'anno. La novità dell'anno è stato stupendo, che secondo me è probabilmente il premio più bello che potevamo ricevere perché abbiamo aperto da nove mesi, neanche un anno. Sì, quando ci siamo visti avete aperto da pochissimo. Ci hanno premiato per lo stesso motivo al Gambere Rosso, che è stato pure quello fighissimo, totalmente inaspettato. I bar awards e ricevere un premio così dopo pochi mesi di apertura è stato proprio un... Tante quelle cose belle e basta, perché noi con Derti abbiamo deciso, in controcorrenza, di non lavorare per entrare in classifiche. Questo non vuol dire che non ci interessa. Certo, quando arrivano è bellissimo, ma quando tu lavori semplicemente per, logicamente, essere in attività commerciale, per fare soldi, e non c'è niente di sbagliato, e per fare qualcosa in cui credi, pensando all'ospite, quando poi arrivano i premi, sono... te li godi veramente. Perché... perché vuol dire che la gente ti riconosce qualcosa. E sicuramente, posso dire senza dubbio, che non abbiamo rubato niente a nessuno, perché è un concept bar che è talmente semplice da essere complesso. Per cui abbiamo voluto rompere determinati schemi su un qualcosa, su una direzione che stava prendendo il mondo del bar e che secondo noi non era proprio quella giusta. O comunque non era quella giusta per noi. Ok, perché tornando al discorso di Jim Carrey che si spoglia. Sì. Adesso magari immagini la scena di te che lo fai a casa. Però, dico, come... adesso materialmente non mi ricordo precisamente, però mi ricordo che hai sempre lavorato in posti che comunque hanno ambito a entrare in certe classifiche e spesso ci sono anche entrati. Certo. E quindi hai sempre dovuto lavorare in un certo modo, seguendo determinati standard, seguendo determinati trend, se... capito? Nel senso, mettendoti già che cravatta, camicia e sapendo come bisogna comportarsi per arrivare a una certa cosa. Ovvio. Che però comunque non è facile, non c'è una formula vincente. No, assolutamente. Anche perché, a parte il posto, perché poi vediamo che c'è in certe classifiche che senza fare nomi conosciamo tutti, ci sono tantissimi tipi di bar differenti. Ok, questo ti fa capire che non ci sono delle regole fisse per il bar per entrare. Quindi, cioè, si premiano i bar, ma si votano le persone. Quindi è la persona che viene votata per entrare in determinate classifiche, non i bar. E devi essere, uno, fortunato di essere comunque simpatico. Due, coltivare determinate relazioni anche a... purtroppo ormai ha preso delle dimensioni che sono fuori dalla grazia di Dio. Cioè, ti devi far piacere delle persone che in realtà non ci mangeresti manco una brioche o un caffè la mattina. Eppure sei costretto lì a beccarti questi pipponi sul bar, sulle stronzate. Fare una vita di merda, quindi viaggiare, cioè, vivere con la valigia in mano, viaggiare, andare a fare questi ospitati in giro per il mondo, l'ho fatta io. Cioè, so che è una vita di merda. Cioè, magari a qualcuno gli piace, però ti può piacere per un tot. Quando sei giovane, magari vuoi farti, vuoi emergere, vuoi farti vedere. Però dopo un po', dici, ma per cosa? Cioè, dove mi devi portare tutto ciò? Che mi dà indietro, effettivamente, oltre dieci minuti di gloria su una pagina Instagram? O fare l'ego bartender in cui, ah, sai, io sono sto cazzo, ho vinto questo, sono in questa classifica. Alla gente mi viene a frere un cazzo. Zero. Non sanno manco che esistono determinate classifiche. Però penso che questo l'abbia già detto pure Diego. Mi sa che l'ho sentito una cosa. Sì, Diego ha fatto il discorso su, no, non Diego, Samuel Ambrosi. Ah, Samuel. Ha fatto il discorso che, quando vinci, devi capire che stai facendo le cose in modo giusto. Non che sei diventato... Sì, esatto, semplicemente quello. Poi in modo giusto potrei capire per chi è. Perché ci sono dei bar che vincono premi su premi, ma hanno i conti in rosso e sono vuoti. Quindi, boh, da capire, vuole quello. E cosa di cui mi sono domandato e che ne ho anche già parlato, invece, era quella del... Ci sono questi premi, ok? Ci sono queste classifiche. Cosa di cui io mi domandavo quando ero bambino. Quando ero bambino, tipo, vedo vincere i 100 metri? Certo. Ma secondo me c'è uno in Africa che corre più veloce del vincitore. E uguale, la penso adesso per i bar, dico, magari sono bar che non hanno le conoscenze che dici tu, personaggi che non hanno le conoscenze che dici tu, che però sono molto meglio ma nessuno li conosce. Ma assolutamente, ma specialmente su contesti come quello bar, ristorazione, non ci sono dei parametri oggettivi. Cioè, come se ti chiedessi, qual è il drink più buono del mondo? Ma a te piace il daigri, a me piace l'olfashioned. Cioè, è tutto estremamente soggettivo. La migliore esperienza bar non è per forza quella più pettinata o quella dove a fine serata te ne vai con una signorina. Cioè, è estremamente soggettivo. Cioè, sicuramente il miglior bar è quello dove torni spesso, non quello dove vai una volta a fare il turista. Altra cosa che l'hai tirata fuori tu, e sono contento, qua mi sono scritto persone, perché mentre mi parlando mi scrivo delle cose per riportarmi quello che voglio dire. Hai detto che alla fine il premio viene dato alla persona, non al locale. Cosa che io ripeto, penso da 4-5 episodi, che l'appeal di un locale, io la metto sul piano di un bartender perché deve venire a lavorare da te. Magari un bartender che tu vorresti perché deve venire a lavorare da te. Dico, l'appeal del locale, anche se il locale è famoso, anche se il locale è premiato, dico, ma l'appeal del locale glielo danno le persone che sono lì. Assolutamente. Capito? Anche se il marchio è forte. Ma certo. Sono le persone. Io, tipo, faccio l'esempio mio personale di quando sono stato a lavorare al... quando sono arrivato a lavorare al Vanilla Jesolo. A me mi ha chiamato Nicolo Piccione, che era il direttore di allora, con cui ho un bellissimo rapporto adesso, però ai tempi non lo conoscevo, dico, ma se lui mi ha chiamato, io ero super felice di andare a lavorare in questo posto perché è la storia dei flat bartender italiani. Però se, nonostante la storia, lì non ci fosse stato Arcozzani, Giorgio Chiarello e altri nomi importanti, io lì non ci sarei andato, nonostante la storia, capito? Certo. Io perché sono andato lì? Sono andato lì per le persone, non per il marchio. Assolutamente. E tu, cioè, in bar, senza le persone, sono solamente muri. Sono solamente muri in bottiglie e sgabelli. Cioè, sono le persone che fanno la differenza da una parte del bancone e soprattutto dall'altra. Cioè, chi viene nel tuo bar? È quello. Come fai ad attirare quello che vuoi nel tuo bar? Innanzitutto, lasciando fuori tutto quello che non ti interessa. In maniera diretta o indiretta, attraverso tanti modi che sono polisi di prezzo o semplicemente non dando confidenza a persone che non ti interessa avere dentro. E quello purtroppo, quando sei a un bar su strada, ti entrano. Entra tutto. Quello. E poi, semplicemente coltivando quello che è il tuo portfolio clienti in cui credi, che siano le persone che debbano stare lì. E, logicamente, creando squadra, facendo team. E come si fa questo dietro a un bancone? Facendo una cosa che ti piace. Una cosa che ti diverte. Cioè, parliamo chiaro. Lavorare fa schifo. Ok? Preferirei farmi i cazzi miei dalla mattina alla sera e il conto con 8-0. Ma se tanto devo fare qualcosa, faccio qualcosa che non mi fa odiare la mia giornata. E come faccio ad arrivare a quello? Creando un ambiente di lavoro sereno, in cui sì, si lavora, ma si ride, si scherza, c'è il giusto compenso salariale, ci sono le giuste ore e si sdrammatizza spesso e volentieri su cose che potrebbero rendere la tua giornata un inferno. Poi si fa, tra bartender si fa sempre comunella, dietro da dietro al bancone. È innegabile. Su duemila cose che ci uniscono. Non ce ne rendiamo conto, ma stiamo parlando di branding in questo momento. Ok. Pensi che, tornando sempre al discorso delle persone, pensi che se oggi tu e i tuoi colleghi, le persone che orbitano dentro il dirti, magari tu cerchi un personale nuovo. Però al personale nuovo dici, io non ci sarò, i miei colleghi non ci saranno, non ci sarà nessuno che c'è adesso. Ok. Ok. E tu ti allontani e quindi non ci sarebbe né modo di lavorare con te, né modo di vedere l'atmosfera del dirti. Pensi che una persona invece ci verrebbe a lavorare? Le persone devono essere sempre quelle giuste. Posso non esserci io sempre, ma comunque ci devi andare al tuo locale. Ti devi far vedere, per tanti motivi, per i tuoi clienti, per tante cose. Devi far sì che comunque le persone che ti sostituiscano siano... siano non alla tua stessa, perché stiamo parlando del bartending, ok? Siano delle persone che riescano a far trasmettere esattamente quello che tu vuoi. Ma deve essere così, altrimenti tu diventi schiavo del tuo bar. Cioè, personalmente non è quello che voglio fare. E quando tu metti una persona che te lo al bancone, tu non devi trattarla semplicemente da dipendente, la devi coinvolgere. Io è una cosa che dico spesso. E' che un vero leader non crea follower, crea nuovi leader. Io vorrei che da più a due anni, chi viene da Derti, non sa manco chi è Mario Farulla, ma va da Derti. Ed è per questo che abbiamo creato questo format. E a noi ci piace vincere facile, il nostro è un industry bar. Noi diamo un servizio, perché siamo aperti fino alle tre e mezza di notte, in una città dove la maggior parte dei bar chiudono alle una e mezza. Quindi, andando a lavorare in una fascia oraria dove non c'è nessuno, ci siamo tolti uno o un bel po' di competitor. Secondo voi, sì, abbiamo preso quello che gli altri hanno deciso di non prendere, perché è scomodo, perché rompe le palle. In questo modo è diventato anche un punto di ritrovo, anche per addetti ai lavori. Esatto, è un industry bar, cioè tutta Milano che tira giù le serrande del loro locale, che possono essere non solo bartender, ma anche chef, camerieri, doorman, tutti quelli che lavorano nell'ospitalità o comunque fanno lavori notturni, perché io ho anche gente che lavora dentro una metropolitana e stacca le due, vuole andarsi a bere una birra, viene da noi. E tanti non sanno minimamente dei premi, non sanno chi siamo, vengono semplicemente perché c'è un bar aperto, pare carino, c'è musica, ci sono persone, eccetera. E va benissimo. Vanno ancora forti le tue playlist? Sì, sì, sì. Poi abbiamo arricchite tanto, stiamo facendo tante serate anche a tema hip-hop con diverse collaborazioni. Come le troviamo su Spotify, così magari lo scriviamo? Ah, su Dirty Underscore Milano. Dirty Underscore Milano su Spotify. Sì, stanno tutti. Quelli che mi piacciono tantissimo. Alice che è lo zampino di Karola, non mio, io sono un po' troppo boomer per stare al passo con i tempi. No, ce la fai benissimo. Detto questo, mi hai illuminato su una cosa, penso, settimana scorsa, o dieci giorni fa al massimo, in cui mi hai scritto e non faccio più le guest in giro perché non mi va più di lavorare gratis. E io lì tra me e me ho detto ma allora io sono stronzo che tu sempre chiesti i soldi. Cioè, non lo so, dico... E quindi dovevo chiedere, come funziona una guest? È il lavoro in nero che spesso non viene pagato, spesso se ti fai male dietro un altro bancone non c'è manco un'assicurazione. Tuo tempo libero... E ora ti faccio un esempio del cazzo. Tu lavori per la Fiat, ok? Ti dicono, lavori in Fiat e fai l'operaio. Sei al Tornia, ok, in Fiat. Fai sei su sette. Tu ci andresti a fare un turno gratis in Alfa Romeo o in Mercedes. Ovviamente no. No. Perché non lo dobbiamo fare? Per la gente, per i clienti? Mi frega un cazzo. Tu con una guest dai semplicemente un disservizio. Perché? Invece di prenderti cura dei clienti vai col tuo ego, con i tuoi cazzo quattro di drink che devono soddisfare tutti, devono piacere a tutti e imballi il bar. Devi sbatterti, viaggiare, spesso nel tuo giorno di riposo. L'unica cosa che hai è il rimborso spese, viaggio, alloggio, ma sinceramente una casa ce l'ho pure io e un mezzo per arrivarci ce l'ho sempre. Per cui, secondo me, le guest vanno fatte solamente in due casi. O perché veramente vai a divertirsi, sono amici e ti va, già ti trovi e tutto quanto, ma vai a fare veramente festa, ti va a divertire. E se ti va a divertire non le fai di lunedì col bar vuoto per quattro cazzo dei baristi che vengono a vedere le tue magie. le fai di venerdì e di sabato perché non vai a fare una guest ma a fare una shifter. Mi diverto e vado a dare la mano veramente. Faccio i loro drink, io imparo a fare i loro drink, a fare i servizi, a trattare con i loro clienti, non con i bartender, con i loro clienti e me li presentano. Allora lì veramente c'è uno scambio. E le fai di weekend perché il locale è pieno. O se no, mi vuoi, pagami. Mi devi pagare. Perché io ti sto dando il mio tempo libero. E il mio tempo libero ha un valore. Posso stare a casa a grattarmi la panza, posso andare in palestra, posso uscire con una ragazza, posso fare quello che mi pare. Non sta a te dare un valore al mio tempo. So io che ti dico quanto costa. Mi è capitato proprio durante quest'ultimo anno di capire quanto... Perché tipo, ti fanno una proposta. Per te è poco, però poi c'è ragione e dici vabbè tanto io sto a casa a grattarmi la pancia. e invece no, se veramente ci pensi dici sì, non ho guadagnato quei soldi lì. Fa niente. Non fa niente, è tempo mio. Dedico a quello che mi serve, al recupero mio fisico anche perché come il discorso ferie, non è che le ferie se non le prendi te le pagano, no? Tu le ferie le devi fare sennò vai in burnout. Ti devi riposare. Devi avere tempo per coltivare le tue passioni fuori dal lavoro perché il lavoro è solo... Il lavoro deve essere la parte brutta della tua vita, non quella bella. Per questo ti devi focalizzare sulla tua vita fuori dal lavoro. Il problema è che nella nostra community di bar alla maggior parte delle persone se tu gli chiedi che ti piace fare loro non sanno che dirti. A parte mi piace viaggiare, mi piace bere, mi piace divertirmi, mangiare. Ok, ma che ti piace fare fuori dal lavoro? Queste sono cose basiche che piacciono a tutti. Ce l'hai una passione? Sì, ne avevo parlato. Non c'è un tempo. Ok, questa cosa delle guest mi interessava mi interessava tanto e ci sono anche vari punti di... vari modi di vederla. Detto questo, come... In grosso modo siamo arrivati quasi a un anno come... come lo bilanci questo tuo anno? Un anno molto strano. Tanti, tanti cambiamenti, cambi di vita, un anno estremamente intenso anche perché non mi pare neanche un anno. Cioè, mi sembra... A volte penso che siano dieci, a volte penso che sia passato un mese. È stato estremamente intenso. È stato bello, bellissimo. è stato molto superiore alle aspettative, devo dire, molto superiore alle aspettative. È tipo... È tipo di persona, Cioè, prima di partire, dentro di te, senza doverlo dire in giro, però dentro di te che parli con te stesso, ti dici, spacchiamo o qua facciamo altre quali di merda? Nessuna delle due, lo sai? Nessuna delle due. Ho detto, io ogni volta che faccio qualcosa so di non essere pronto, ma sono pronto a mettermi in gioco e imparare le regole. Cioè, ogni volta che io, anche quando mi candidavo per delle posizioni, la prima volta che ho fatto il bar manager, ma secondo te ero in grado di fare il bar manager? No. Oh, oh, mi propongo con il bar manager. E poi ci provo. Poi cerco di dimostrare che valgo quello. A volte è andata bene, a volte male. A volte hanno capito che non andavo bene perché non avevo l'esperienza che dicevo di avere e mi hanno mandato via. È successo. È succeduto a tutti. A volte invece è andata benissimo. Per cui non mi monto la testa né nello stesso tempo mi butto giù. Dico, ok, fermiamoci a leggere le istruzioni. Proviamoci. Ok, perché anche questa io sono molto più il tipo invece da essere se si parla di me o se devo io credere in me stesso sono il primo A. Non crederci il primo A essere super pessimista sul mio lavoro e quello che faccio. Dico, anche questa cosa di decidere di esprimerti finalmente senza rendere conto a nessuno tra te e te con che filosofia l'hai affrontato? Ma diciamo che il periodo è stato molto particolare molto molto particolare sia personale che professionale è stato un cambio radicale. Infatti raccontami un po' che cosa ti è successo in quest'anno? Allora, sono semplicemente esploso semplicemente esploso da tutto quello che mi che mi ingabbiava e questo che c'è adesso è l'onda d'urto ma io non sono né questo né quello che ero sono probabilmente una via di mezzo tra queste due cose e lo capirò ancora sono nell'attesa di capirlo però sicuramente dovevo riuscire ad esprimere me stesso E lo stai facendo adesso? Sì Sì Quindi? Senza 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 limiti anche troppo forse mi sono sempre esposto parecchio adesso forse anche troppo a volte tanto a risultare anche antipatico perché io quando dico una cosa non ci giro intorno ma perché non perdo tempo io non voglio far perdere tempo alle persone intorno a me è anche una forma di rispetto si sa a vedere e poi risulta un po' crudo però a volte lo capisco E appunto proprio su questo volevo parlarne come 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 ti come viene presa come vengono presa a volte alcune alcune trucide tipo adesso voglio voglio farmi raccontare un attimo dei dei barawords però tipo tu hai fatto i barawords e sei andato lì appunto tornando a questo discorso qua sei andato lì vestito come come ti vesti tutti i giorni sei andato sei andato lì e tra l'altro c'era Marco Maccarini sì sì carissimo è pure passato l'anno di dopo i barawords non dico che uno dei miei idoli di infanzia però una delle persone che mi ha accompagnato nella mia infanzia Marco Maccarini MTV è accesa tutto il giorno e mentre si faceva altro compiti e cose perché tipo c'è anche adesso non mi viene in mente come si chiama il nome uno dei due dei soliti idioti quello che fa Ruggero ah sì mi ricordo ho capito io lui che tutti lo identificano in quello io me lo ricordo che lui faceva video clash che era sempre su YouTube sempre su MTV e dico ai barawords sei andato vestiti in quel modo che per te è normalissimo però ovviamente in quell'ambiente erano tutti vestiti in un altro modo e hai vinto hai vinto già hai vinto gli hanno dato un riconoscimento e poi dopo hai caricato una storia con solo una bestemmia sì ok questo mi interessa come viene io l'ho fatta dire a mio fratello perché io e mio fratello viviamo di meme quindi quello che ci fu io e mio fratello viviamo solo di meme e subito ho detto Luca viene te lo ricordi Mario? fa no chi è glielo ho fatto vedere fa ah sì sì me lo ricordo e fa guarda la storia che ha messo allora prima di imbarawords sono stato forse un mesetto a pensare che mi sarei messo che pare un pensiero estremamente frivolo ma è un'occasione che io ho un grande rispetto e quindi ci ho pensato tanto oddio mi metto il completo voglio stare così perché gli altri stanno così poi ho visto che come sempre quando ci sono bartender di mezzo diventa un grande circo che è molto dresto in press al fine del giorno stesso dove essermi preparato tutto aver comprato un vestito apposta sistemato e ho detto fermo non mi sento a mio angio se io vado su e vado a prendere un premio lo devo prendere per quello che sono io con una felpa con le sneakers con i cargo perché se la gente mi premia di qualcosa io non la devo piare per culo facendomi vedere che so qualcos'altro sono questo e ho proprio fatto scendere tutta la tensione ho detto io vado per quello che sono io poi visto bene non visto bene il problema non è mio questo poi sulla bestemmia ero semplicemente ubriaco ero semplicemente ubriaco e la prima cosa mi viene a mente a rischio di essere bannato ovviamente adesso sto provando a farmi bannare da trezzo vediamo se ci riesco trezzo lo utilizzo però è giusto di rimbalzo niente di non suscita ancora molto interesse in me e però tu tipo alla fine decidendo di fare questa cosa decidendo di ritirare anche il premio che alla fine era l'innovazione dici perché sono stato premiato perché sono così se io vado vestito in un altro modo nel senso non che conti tanto a tuo avviso il vestito come anche secondo me non conta però dico sei stato premiato per quello che sei se tu andassi col vestito di tutto punto prendi un premio sì però alla fine non ti stanno premiando per quel vestito non mi voglio mascherare da qualcosa che non sono per un'occasione per l'ogginalmente c'è stato il matrimonio di mia sorella faccio un esempio è una che ci vado ovvio però è un'occasione in cui veramente sei al centro in qualche cosa o potresti essere al centro uno la tensione la devi smorzare innanzitutto perché comunque è sempre in emozione grossa secondo poi non devi far vedere qualcosa che non ti appartiene l'ho fatto per una vita questo mi interessa a me questo è quello che l'ho fatto per una vita sarebbe avrei reiterato nel mio errore e non volevo non volevo assolutamente volevo che la gente mi vedesse per assurdo a nudo e io quando quando sono me stesso sono nudo e è una cosa che spero arrivi alle persone che capiscano poi non è che abbia grandi aspettative e come allora nella nella siete in tre voi o due tre siete tu Carola e Gigi ok raccontami un po' il vostro rapporto in quest'anno perché immagino non conosco gli altri due però immagino che magari siete anche scontrati su cose o avete discusso vi amate odiate allora sono probabilmente le persone più vicine a me da più tempo e veramente per me sono sono veramente famiglia per me sono veramente famiglia che succede in famiglia tutto il contrario di tutto non abbiamo mai litigato devo dire discusso certo è normale anche perché la la crescita fa passa attraverso il contraddittorio per cui se se avessi voluto fare solamente quello che volevo io avrei aperto una ditta personale se decidiamo di fare una società è perché io reputo che le loro opinioni continuo e loro con me quindi è importante che ci sia un confronto che poi si possa andare in una direzione o meno e ogni volta che si prende una decisione succede che qualcuno non è dello stesso avviso e lì sta l'intelligenza a capire quando su alcune cose uno attorno di noi magari decide di fare un passo indietro e dire ok fate voi per me va bene mi fido delegare è una cosa molto importante e ho un'estrema stima professionale di loro e una fiducia illimitata illimitata che sono persone che non mi farebbero mai del male e mai io a loro ok e mi è capitato spesso di utilizzare proprio il dirti brand come esempio perché spesso mi trovo a parlare spesso mi mi trovo anche a rispondere io a domande perché magari facendo questo podcast in tanti mi prendono per un super esperto del mondo dei social network però invece non lo sono io vado avanti provando le cose quindi non se mi chiedi una cosa dico non lo so io faccio così certo e però il dirti mi sembra un esempio perfetto di persone che sanno in cosa sono brave e sanno invece che cosa far fare a chi è bravo nel senso nel senso che tu Mario fai il tuo però voi vi siete affiancati allo studio mai giù che ho anche conosciuto abbiamo fatto anche un episodio insieme e tra l'altro nello stare con loro mi è capitato che mentre erano con me hanno fatto delle cose per dirti o hanno parlato tra di loro di cose da fare lavori per voi e mi rendo conto come dico seguendo anche il discorso che mi hanno fatto loro come dico dirti è un progetto ad oggi riuscito ad oggi fatto bene però è fatto non da non è venuto fuori a caso nel senso l'immagine la tua persona il branding i colori tutto non è venuto fuori a caso no non è venuto fuori a caso a parte che loro sono bravissimi e soprattutto scusami non è fatto a caso cioè non è che ti è venuto no 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 loro sono bravissimi perché secondo me è uno studio di comunicazione in generale che deve fare di riuscire a tirare fuori dalla tua testa quello che sono le tue emozioni riguardo a un qualcosa e tramutarlo in un qualcosa di video di immagini e per far capire esattamente il messaggio che tu vuoi veicolare ecco loro in questo sono veramente bravissimi noi riguardo Dirty è venuto tutto totalmente naturale e fortunatamente funziona perché Dirty è un è un rebel bar è un rebel bar è un bar brutale è un bar crudo che fortunatamente veramente ci somiglia nel nostro modo di essere di affrontare la vita di comunicare sotto mille punti di vista quindi è stato facilissimo creare un'identità perché è un'identità che corrisponde in tante cose alla nostra allo stesso tempo con uno studio di persone molto brave siamo riusciti a trasformare l'identità in un qualcosa di tangibile che può essere una pagina Instagram che può essere una grafica un modo di comunicare per assoluto alcuni reel nostri abbiamo deciso di mettere musica hardcore che dice che c'entra niente ma va a riprendere delle campagne pubblicitarie che riportano al Berlin style anni 80 dove c'era questa musica 90 perché 80 anni 90 dove c'era questa musica hardcore che andava a riprendere tutta la situazione industriale tutta la situazione che stava crescendo che è un po' lo step prima del dirty che si fa molto a Berlino e per fare questo ci siamo messi a tavolino abbiamo capito un attimino come lo vogliamo comunicare perché lo vogliamo fare e loro su questo sono brevissimi diciamo che lo rapporto a me quando magari ho delle idee loro sono bravi magari a prendere quello che è nella tua testa e però non hai i mezzi per tirarlo fuori o le competenze per tirarlo fuori e loro invece ti danno una mano si 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 bravi 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 poi devo dire che oltre quello siamo stati anche fortunati perché la gente ci vuole bene e senza questo non siamo andati da nessuna parte perché comunque la gente si piace ma c'è gente che ha creduto in noi dal giorno zero cioè prima di aprire ci sono persone che si sono tatuate il nostro logo prima di noi prima di noi soci ok mi hai aperto una domanda che voglio fare da un sacco di tempo perché mi capita di vedere tipo a me è capitato di persone che hanno fatto ragazzi e ragazze che hanno fatto la loro tesi di esame delle superiori parlando di me mi è capitato capito e dico nessuno si è metto tu altro mio nome però dico uno che si una persona che arriva a tatuarsi il tuo logo il tuo brand come viene preso da te benissimo è bello una soddisfazione ma non perché Dirty non è un locale è un'attitudine e hanno capito l'attitudine Dirty potrà chiudere anche domani ma se tu hai capito quello che noi vogliamo trasmettere con Dirty quello non fallerà mai quello rimarrà per sempre ed è il nostro goal far capire alla gente il messaggio che passa attraverso un locale del genere che è un messaggio di trasgressione sicuramente da una parte ma anche semplicità spontaneità onestà e onestà intellettuale questo è quello che proviamo a fare noi con un locale del genere viviamo in un momento in cui c'è la possibilità di arrivare a qualsiasi cosa gratuitamente anche questo podcast è disponibile a tutti in modo in modo gratuito tantissima informazione di qualsiasi ambito tipo io ne sono figlio io dico sempre che la mia università è youtube io quindi qualsiasi cosa che devo imparare la vado sempre a cercare e documentarmi su youtube ed è tutto sempre gratuito io però quando trovo qualcosa che veramente mi piace veramente aiuta la mia crescita se c'è la possibilità non lo so che questo marchi questa pagina youtube che fa le felpe io le compro anche se la felpa fa schifo la compro ma perché so che può aiutare mi abbono al canale perché so che perché quel contenuto a me piace mi abbono al canale perché so che può aiutare quindi tu mi hai detto che la gente ha creduto nel progetto però c'è tanta differenza quando un progetto è gratuito e quando un progetto invece per crederci tra virgolette devi investirci perciò dico la gente ha creduto nel progetto sta credendo nel progetto e ci crede anche vedendo e consumando lo sostiene lo sostiene non solo dice bravi belli lì poi va a bere altrove lo sostiene con la frequenza ma perché poi chi viene a noi spesso e volentieri comunque torna perché sta bene perché non gli rompe le palle nessuno cioè ci chiamo veramente di fare la trattoria perché lo stellato è bellissimo tu ci vai una volta l'anno in trattoria ci vai tutti i giorni con una polisi di prezzi giusti calmirati con un atteggiamento inclusivo molti molti locali molti bar e ristoranti si freggiano il fatto di essere esclusivi il bar non deve essere esclusivo deve essere inclusivo perché è un luogo di aggregazione e noi proviamo ad esserlo tutti i giorni senza non facendo distinzioni su nulla un posto veramente con zero pregiudizi l'inclusività è un discorso che traspare molto nell'idea di dirti e permettimelo di dirlo anche su One Scene sì assolutamente infatti sia te che Milo vi ho visto super penso che siete anche super in contatto tra di voi assolutamente però vi ho visto super in sintonia abbiamo anche dei progetti insieme sì me ne ha parlato e magari me ne parlerete più avanti quando sarete pronti o quando saranno quando saranno pronti ne parleremo anche qua nel podcast siamo molto in linea che mi sono già messo a disposizione però dico ho visto che quest'idea di voler includere è una linea molto assolutamente ma perché il futuro basta avere un minimo di cervello per capire che il futuro è l'inclusione cioè non è la giustificazione della polemica ma l'inclusione vera non ha bisogno di spiegazioni deve avvenire naturalmente è questa la verità e diciamo che Milo è la parte più intelligente di me io so però so più bello di Milo è un po' brutto perché questa cosa dell'inclusione è una cosa che io ho vissuto ho vissuto proprio sulla mia pelle e che parlando con persone come Milo parlando con persone come te o vedendo vedendo i vostri locali faccio sempre mente locale su tutto perché tipo io sono cresciuto negli anni 90 al nord con una famiglia del sud quindi l'odio tra virgolette che adesso c'è verso magari gli extracomunitari ai tempi c'era per le persone del sud non dico che non ho fatto una brutta infanzia la mia infanzia è stata benissima però comunque ho vissuto certe situazioni ho vinto lo sguardo come sentono il tuo accento si guardano un po' così ho avuto amici che ho avuto amici nella mia crescita di colore e vivevo su di loro le loro esperienze e cose varie e quando mi sono trasferito da vivevo a Modena mi sono trasferito a Brescia che sono meno di 200 km ma il modo di vivere era completamente diverso nei primi anni 2010 e a Brescia anche persone magari che dalle mie parti persone che hanno orientamenti sessuali diversi l'hanno vista in modo completamente diverso invece a Brescia era completamente normale e io stesso su di me ho vissuto il fatto che io non ero inclusivo che a me una persona che una persona del genere mi creava fastidio la nostra generazione è nata con pregiudizi cioè noi siamo nati nel momento in cui c'erano i film di Vanzina cioè non è neanche una colpa avere dei pregiudizi ce ne abbiamo tutti ma il nostro dovere è cercare di superarli all'atto pratico cioè cercare di ragionare su dei propri bug generazionali e culturali e cercare di andare avanti perché se ti pensi bene perché una persona che appartiene a una una categoria o una etnia razza come la vogliamo chiamare comunque ormai si sbaglia comunque se fatti debba essere in qualche modo non allineata a me anche perché poi quello che ti dico in generale il razzismo non è un problema di colore è un problema di comunicazione perché ti faccio un esempio a te non dà fastidio cioè tu non repudi inferiore una persona che abbia un colore diverso ma una persona che non ha la comprensione o l'accento o la dialettica che tu hai perché se io sento che tu parli male la mia lingua io penso immediatamente che sei stupido e non è vero però vuoi fare il contrario ed è una cosa che se hai vissuto all'estero tu l'hai vissuta e perché la devi riproporre a qualcun altro cioè la vera barriera è una comunicazione per tante cose per altre insomma logicamente viene proprio da un'estrazione sociale un contesto di vita o anni in cui era tutto divertente si rideva su tutto e non si pensava che la gente stava male e proprio su questo poi crescendo io capendo tante cose mi rendo conto di invece come con l'inclusività invece ci si ritrova ad avere sempre in comune con chiunque certo siamo esseri umani e ti racconto ti racconto una mia piccola cosa quando lavoravo a Brescia in un locale c'era una compagnia di persone di transgender che venivano sempre a bere da me io lavoravo in un bar che era a ferro di cavallo ok e io ero dall'inun angolo in cui c'era il bancone che c'era molta distanza perché eravamo sotto la visione dei clienti invece di fianco a me tu potevi venire a bere come se fossi qua e io avevo questa compagnia di una ventina di trans che a rotazione venivano sempre e bevevano sempre da me ma sai che quando ho superato questa mia barriera che hai detto tu che è soltanto culturale ho visto come invece queste persone qua mi svoltavano la serata ogni volta ma certo se sei andato a vedere l'essere umano è l'oggettivo e non quello che sta semplicemente dentro di noi cioè sei andato a capire che uno ti svoltavo la serata due sei andato a vedere l'essere umano fuori da tutto quello che c'è intorno sei andato a estrapolare quello che è l'essenza umana del tuo ospite cliente insomma e a capire che l'avesse detto uno o un altro sarebbe stata la stessa cosa dovremmo cercare di giudicare meno la scatola e vedere un pochino più il contenuto fermo lì ho un'occasione che non ti puoi perdere so che hai bisogno di questo conosci Restword? Restword è una piattaforma con oltre 972 locali in giro per tutta Italia che offre lavoro ai bartender e a chi fa parte del mondo dell'oreca ma i vantaggi non finiscono qua con la sua mappa interattiva Restword ti dà la possibilità di salvare le tue ricerche nei tuoi locali preferiti e in questo modo non perdere mai un'occasione su questa piattaforma creando il tuo profilo personalizzato renderai il tuo curriculum sempre più accattivante e interessante per i datori di lavoro che su Restword cercano dipendenti cosa che avrei dovuto dire all'inizio Restword si impegna a migliorare il benessere e la trasparenza all'interno del mondo della ristorazione offrendo informazioni chiare su posizione lavorativa stipendio netto e tipo di contratto visita www.restword.it per iniziare la tua avventura nel mondo dell'hospitality e della mixology guidato da etica e trasparenza Mentre stavamo mentre stavamo abbiamo preso una posa tra una ripresa e l'altra mi hai detto che hai deciso tra virgolette di allontanarti un po' dai social raccontami un po' questa cosa Sto comunicando leggermente meno perché per alcuni è comunque dato quello che faccio leggermente meno perché a volte li trovo un po' meno interessanti forse sarà che c'è una vita più piena adesso c'ho più cose da fare li trovo un po' meno interessanti perché spesso e volentieri non c'è un bacino d'ascolto che sia così che sia così interessante con cui avere degli scambi o semplicemente come dicevo pure prima cioè io per chi devo creare dei contenuti ma mi pagano no quindi c'ho qualcosa a dire e la dico e poi spesso e volentieri perché come scrivo una cosa succedono wolveroni che da una parte è divertente ma poi gli sta presso se no rischi di non farti capire devi passare veramente per uno stronzo e basta devi anche argomentare quello che fai quindi su alcune cose sui social specialmente se prima boom di getto facevo qualcosa in altri contesti adesso tendo a contare fino a dieci ci pensi un attimo ci pensi un attimo perché poi non mi va di stare appresso a chi non ha capito il messaggio è quello che mi che mi sconforta un pochino e allo stesso tempo però sento un bisogno di comunicare perché l'essere umano è fatto per comunicare e cerco altri canali che può essere però quello a parte il podcast con te ma anche quello dal vivo che secondo me è più interessante a me piace quando vengono le persone e parlano con me quello mi piace molto mi piace spiegare dal vivo quindi sto mettendo leggermente da parte il mondo virtuale per dedicarmi un pochino in più a quello reale come dicevo le guest su un giungito quel mondo visibilità sono io la guest nel mio locale se la gente viene vuole parlare con me vuole parlare con Gigi o Carola cioè siamo noi le persone di riferimento lì dentro ma non perché siamo più importanti gli ospiti ma perché veramente siamo tangibili non siamo delle icone con accanto una chat e bisogna tornare un pochino in più su quello che è il concreto su quello che è veramente il bar il virtuale è importantissimo è innegabile che nel 2024 metterlo da parte è veramente impensabile ma non ho più voglia di darmi così tanto impasto alla gente in questo anno che è passato io sono diventato perché anche io sto cercando nel mio possibile di formarmi il più possibile per cercare di essere un host migliore qui nel podcast e ho iniziato ad ascoltare tanto la zanzara sì non so se tu sì assolutamente ok li amo ok sì uguale anch'io e tu mi dai l'impressione di essere un po' il cruciani dei bartender in parte sì in parte non tanto per le idee ma tanto per la volontà di testare vedere cosa succede guarda un attimo ho temuto di dicessi il brasiliano no no super personaggio però no un po' sì perché mi piace provocare mi piace mi diverte tantissimo ma anche contro quello che penso veramente semplicemente la butto lì e vediamo che succede è una cosa che mi ha sempre appassionato adesso come dicevo prima sto cercando un attimino ma perché proprio non c'è tempo più di tanto sì è interessante ma non mi stimola più come una volta però anche dal vivo sempre così cioè ripeto io se penso una cosa la dico non mi piace girarci intorno oggi per assurdo ho fatto un post su instagram in cui ho detto sto cercando un investitore che ci abbia un sacco di soldi perché voglio aprire diversi diversi in giro per l'italia e non solo te l'avrei chiesto troppo parliamo direttamente adesso sono andato dritto cioè non è un progetto è una cosa che ti è venuta in mente è una cosa che ho in mente da qualche tempo oggi ho deciso poi ho sbagliato giornata perché mi hanno scritto 150 persone che continuano e adesso non sto vedendo il telefono e ho deciso e ho scritto a stenersi i poveri perché se se avevo i soldi me lo facevo da solo ok che so cose scontate ma tu alla gente devi dire quando comunichi devi dire esattamente le cose come stanno non devi girarci troppo intorno perché se no fanno perdere tempo a me io faccio perdere tempo alle persone allo stesso tempo in tanti potrebbero dire ma è scritto su instagram non è il canale giusto ma ma a me che mi frega io lo scrivo a Roma si dice testa che non parla se gli amavo cursa io un bar magari se avessi chiesto e parlato di più l'avrei potuto aprire 5 anni fa e invece per cercare di fare le cose fatte bene no devi parlare con le persone giuste no io lo dico sto cercando investitore perché voglio aprire la strip bar e tu devi diffondere diffondere il verbo poi sicuramente arriva a tante persone che ti faranno perdere tempo diranno cazzate o ti rispondono con la presa in giro o con la battuta si fa ma intanto quelle persone dicono altre persone che le dicono ad altre cioè perché devo perdere tempo e cercandola il modo migliore per dire una cosa quando la cosa è quella è oggettiva e la devi dire come sta poi dove arriva arriva e poi chi lo sa magari tra tre giorni mi chiama un fondo degli emirati che ne vuole aprire mille ma se non c'è proprio non lo sai e mi fai venire in mente allora prima cosa se uno se uno mi immagino te e uno ti iscrive e non è il canale giusto dove iscrive lo dici ma che cazzo vuoi ma fatti cazzi vuoi infatti dico dimmi qual è quello giusto va benissimo poi mi fai venire in mente Giorgio Facchinetti che proprio un paio di giorni fa ha caricato e io nel vederlo ho detto perfetto va benissimo così perché non si dovrebbe fare che Giorgio ha fatto una foto o un video non mi ricordo del luogo che utilizza per caricare i contenuti sui social in cui ha pulito la bottigliera e dice ragazzi c'è del posto libero se qualcuno vuole entrare come sponsor il posto è libero giusto che cosa c'è di sbagliato niente perché alla fine cioè sembra che bisogna farlo bisogna farlo in separata sede di decidere lo sponsor ragazzi c'è il posto chi vuole entrare ne parliamo ma giusto ha fatto benissimo perché ripeto testa che non parla si chiama cucuzza cioè se c'hai più pubblico hai più devi sfruttare l'audience per cercare di ottenere quello che vuoi tu se no è ego tra l'altro l'ha fatto con la bottigliera vuota e sotto lo screenshot delle interazioni del profilo giusto degli insight del profilo ha venduto uno spazio serve a quello poi sicuramente serve anche a cazzeggiare come sfogo ma se tu veramente hai un certo tipo di interazioni o hai una community che ti segue non devi avere paura a chiedere aiuto tu dove non arrivi devi chiedere aiuto perché se no rimani da solo come un cetriolo veramente con le tue idee nella tua testa che non riesci mai a scaricarle a terra cioè come si dice la potenza è nulla senza il controllo è così tu puoi avere un cloud di idee fantastiche ma se a un certo punto non le scarichi a terra queste idee le metti in pratica rimangono solo idee e come le metti in pratica se adesso non ce la fai? chiedendo aiuto chiedendo supporto chiedendo se qualcuno conosce qualcuno che può fare questo vendendo uno spazio o una visibilità X usiamola no? giusto ho fatto benissimo tornando alla ricerca dell'investitore quello che hai scritto oggi ti piacerebbe che ci sia un network di dirti in giro per l'Italia? network intendi per? network di locali di dirti in giro assolutamente dirti o dirti? dirti ok e cioè ti piacerebbe l'idea di dirti Padova dirti Milano sì assolutamente milano c'è già dirti Lecce sì assolutamente perché ripeto non vendiamo drink vendiamo mood che magari ci possono essere anche altri locali simili in altre città ma noi vendiamo il nostro però è un format che penso che in ogni città serva è un format povero è un format economicamente vantaggioso per chi investe e soprattutto senza pretese vivendo a Milano io vedo delle grandi grandi realtà locali stupendi che hanno investimenti milionari che però sono vuoti perché sono la copia della copia della copia della copia quindi se si fa una gara chi ha più soldi bravi fate voi c'hai dei soli soldi però io ho le idee le idee valgono molto più dei soldi perché i soldi sono partiti del giro ed è piena di gente con i soldi io penso di avere delle idee buone adesso le vendo ti faccio un esempio mio personale che mi sono scontrato in questa cosa ho lavorato dieci anni in un locale in cui la proprietà cercava sempre la proprietà era brava in alcune cose però non erano tra virgolette ricchi ok quindi il locale andava bene però comunque di base non c'era una ricchezza economica ok quando il locale è iniziato tra virgolette a non andare più la proprietà è iniziata ad essere stanca hanno venduto e hanno venduto a una proprietà che economicamente mi sa molto bene ok che ha vari locali questo locale era una discoteca hanno venduto una proprietà che aveva altre discoteche ok quando c'è stato il cambio di proprietà c'è stata una pulizia anche di personale tutto io non mi sono ne fatto sentire niente quindi mi facevo conto che facevo parte del vecchio sono stato ricontattato e nell'essere ricontattato da persone che erano state prese a lavorare mi è stato detto che avevano chiesto di me però dico quest'anno non ci saranno più problemi di prima guadagniamo di più non ci saranno problemi di soldi e io galvanizzato da questo dico ci sta quindi ho pensato al locale come era prima senza magari il problema economico cambianuto e lì mi sono reso conto invece di quanto avere i soldi non conta niente perché le cose non conta niente tipo nella risulta di questo locale nel senso che la proprietà di prima erano marito e moglie il marito un PR che sa gestire cioè nel senso mentalità PR che sa gestire i PR sa gestire pubbliche relazioni sa gestire i DJ sa gestire la serata nel senso di musica luci e cose varie sa parlare con l'assessore sa parlare col carabiniere sa parlare col finanziere capito sa parlare con il riccone che fa i taui si sa muovere in tutte queste linee la moglie sa fare i costumi sa fare le scenografie sa fare le sa mettere i mobili giusti sa creare un bello spettacolo sa mettersi e insieme creavano questa cosa qua la proprietà nuova no la proprietà nuova aveva solo i soldi capito sai che io mi sono scontrato di faccia in questa cosa e dico cavolo avere i soldi senza le idee non serve a niente ma infatti qual è la mia idea a differenza di quelli là che comunque hanno avuto un periodo di problematica che hanno dovuto vendere noi fortunatamente vanno bene le cose ma se vuoi fare un'espansione hai bisogno di soldi è inutile è inutile e quello che potresti fare in 5 anni 6 anni se hai una spalla forte riesci a farlo in 2 ok l'errore lì è stato vendere invece di proporre di entrare in società avrebbero tenuto tutte e due le cose la direzione artistica e la parte economica che avrebbe aiutato la parte artistica ad agire in floridità senza dover stare a pensare a mille problemi e dare così una seconda vita al locale questa secondo me era la giusta quadra ed è quello che non dico che stiamo cercando noi perché fortunatamente ripeto non abbiamo questi problemi ma se vogliamo aprirci in quel locale ti dico no non ce l'ho i soldi c'è bisogno di un fondo di qualcuno che crede nel nostro format e ci aiuta ad aprire questo è quello che facciamo noi prima che succeda quello perché poi i locali prima o poi passano di moda la gente si rompe le scatole ne apre uno più figo succedono tante cose ormai quelli che stanno aperti da 30 anni rimarranno aperti per sempre quello che è successo negli ultimi 15-10 anni è cambiato tutto i locali non hanno una vita davanti ai 30 anni difficilmente molto difficile la vita di un locale media è 8-10 anni massimo dopo 10 anni boom si ne parlavo proprio di questa cosa e tornando al discorso della gente che vi vuole bene mio fratello tutti i giorni a Milano si era incontrato con un nostro amico in comune Vincenzo Vitolo perché mi ha fatto il bar mat del podcast e quindi si sono incontrati e Vincenzo mio fratello gli ha detto se sei sempre a Milano andiamo a dirti nonostante lui sia in contatto con tantissime realtà conosce tantissimi a Milano tanti anni e comunque lui a mio fratello gli ha detto andiamo a dirti una sera beh ma ho capito come Vincenzo è stata anche per lui una scommessa fare il bancone per noi perché comunque era una cosa sicuramente diversa fuori dagli schemi e si è messo anche lui in gioco scommettendo lui su di noi perché credevano anche lui quando ha visto il progetto ha creduto nel progetto quindi anche lui ci ha preso tanto a cuore e penso che abbia fatto bene ok momento aneddoti immagino che sia stato un anno pieno di cose infatti qua per ricordarmi questa domanda mi sono scritto cose hai qualcosa da dirmi di particolarmente strano o divertente successo nel locale oddio strano o divertente tipo Milo mi ha raccontato di una volta che si è trovato ci aveva nel locale penso che abbia discoteca intorno o vicino si 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 e ha detto che una volta si è ritrovato il locale pieno di persone nude ed è stata una serata bellissima a me sono entrati a carnevale circa una sessantini 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 una sessantina di ragazzi coreani che parlavano pochissimo italiano vestiti da cosplay senza motivo completamente senza motivo presi e entrati uno dopo l'altro e ho detto è una delle situazioni più surreali di sempre però cose strane succedono tutti i giorni a noi ma veramente tutti i giorni ok ti va di dire l'indirizzo del si Viale Regina Giovanna 14 zona Porta Venezia Porta Venezia ok e niente Mario con le cose che ti volevo chiedere te le ho chiesto spero che tu ti sia espresso abbia espresso i contenuti le cose che volevi dirmi che volevi sta una bella valvola bella terapia e spero di venirti a trovare presto quando vuoi ti invito magari anche a a partecipare al nuovo format che sto facendo degli episodi che sto facendo un nuovo format in cui facciamo anche da bere ok quindi ho visto con Greta sì Greta era un episodio normale in cui mi ha fatto anche un drink però ho iniziato a fare proprio tra virgolette una guest al podcast nel senso che l'ho fatto per ora l'ho fatto con Ido Nono con il Dialogue e con Filippo Sisti che vengono qua e mi presentano i drink magari con te vorrei provare quindi qua dovrei chiedere una mano a qualcuno magari a proprio i ragazzi dello studio a ricreare magari anche le vostre luci e in cui magari mi prepari la vostra drink list o qualcuno dei vostri best seller ti riporto due fusti i nostri sì io quell'episodio lì mi interessa come ti ho già detto che esprimi te stesso quindi mi interessa magari anche farti vedere all'opera super volentieri super volentieri grazie a te Mario grazie mille e ragazzi questo è un episodio un po' più corto il secondo episodio con Mario Farulla vi ringrazio per essere arrivati fin qua ci vediamo alla prossima ricordatevi seguire ovunque ciao ciao